buongiorno dopo il segno della distribuzione dei pani alla folla della moltiplicazione dei panni dei pesci perché tutti possano mangiare la folla stessa cerca gesù perché gesù non si fa trovare se n'è andato e partito la folla cerca con trepidazione con ansia di questo ci parla il vangelo di oggi capitolo 6 di giovanni i versetti dal 22 al 29 la ricerca di gesù che fa appello anche al nostro cuore perché possiamo innanzitutto chiederci che cosa cerchiamo veramente che cosa nella vita di tutti i giorni ci pone ansia e trepidazione dove investiamo le energie della nostra ricerca con le domande della nostra mente e con gli affetti del nostro cuore la la folla cerca gesù anche noi cerchiamo tante cose cerchiamo tante sicurezze cerchiamo garanzie risposte cerchiamo la vita è una lunga e a volte faticosa ricerca si tratta allora di decidere per cosa vale la pena spendere queste energie gesù è colui che siamo chiamati a cercare ma un gesù che da una parte ci accoglie sempre dall'altro lato ci provoca ad uscire ancora di più da noi stessi quando infatti la folla lo trova e gli chiede rabbì quando sei venuto qua e gli sposta il baricentro della domanda l'importante non è quando come sono venuto qua ma perché mi cercate gesù fa notare che la stessa folla che si muove così rapidamente per andare da lui forse cerca quella possibilità di essere saziata ancora dai pani della carne essere saziata nel corpo cioè avere garantiti i bisogni basilari dell'esistenza avere qualche assicurazione forse anche noi a volte viviamo la religione o la spiritualità come una ricerca di sicurezze qui su questa terra gesù manda un oltre i suoi miracoli come li chiamiamo noi sono segni di una vita più grande più profonda quel cibo che rimane per la vita eterna e che gli vuole dare a chiunque lo cerchi veramente e allora ancora possiamo tornare a chiederci la mia ricerca a che livello sta che cosa veramente desidero per la mia vita ho trovato un senso al mio cammino quotidiano che possa orientare tutte le mie fatiche i miei sforzi ecco gesù ci insegna a riconoscere la sua presenza nelle cose di tutti i giorni nelle quotidiane esperienze ma a riconoscerla non soltanto come una risposta ai nostri bisogni immediati ma come una chiamata ad andare più in profondità nel senso intimo della vita nell'amore e la libertà che vengono da una capacità di guardare oltre i bisogni momentanei perché la nostra vita unica e ripetibile è fatta per avere uno sguardo e un orizzonte alla vita dello spirito buona giornata